Ciao ragazzi, facciamo questo video per spiegare il significato della parola infatti in italiano, una parola che abbiamo sentito spesso usare in modo sbagliato. Il test sembrava difficile ma infatti era facile. Non funziona così. Usiamo la congiunzione infatti per confermare con un fatto, con un esempio, un'affermazione che abbiamo fatto prima. Quindi per esempio il test era difficile e infatti non l'ho passato. Usiamo infatti da solo anche per confermare al nostro interlocutore che siamo d'accordo con lui e che lo stiamo ascoltando. Questo caffè è proprio buono. Sì, infatti. Ma allora, come si dice quando il test sembrava difficile però poi era facile? Il test sembrava difficile ma in realtà era facile. Ciao, alla prossima. Oh, il capo sembrava simpatico ma in realtà è un bastardo. Un po' troppo forte.